Benvenuti in Playon. Io sono Dario Soggioro, uno dei soci fondatori e mi occupo dei mercati esteri. Playon è una società con sede in Italia che opera da oltre 15 anni nel mercato delle energie rinnovabili ed in particolare del solare termico. Il solare termico è una tecnologia consolidata da molti anni e rappresenta il modo economicamente più conveniente per riscaldare l'acqua nelle nostre abitazioni, ma anche nei processi industriali e nel terziario. Utilizzando come unica fonte di energia il sole, a differenza di altre tecnologie green, il solare termico è dunque rinnovabile al 100%. Playon produce e vende in Italia e nei mercati esteri sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che per uso industriale o commerciale. Con un giro d'affare di oltre 30 milioni di euro, Playon ricopre una posizione da leader nel mercato italiano del solare termico con una quota di mercato del 25%. Una parte significativa del fatturato arriva dai mercati esteri ed in particolare dalla Francia, dove Playon, grazie alla partnership sviluppata con importanti clienti francesi, si è conquistata negli ultimi anni una posizione da specialista di solare termico. Il nostro team vi accompagnerà ora alla scoperta dei nostri prodotti più innovativi e delle tecnologie della nostra produzione. Noi ci vediamo più tardi, buona visita! Benvenuti nell'area industriale di Playon, sono Filippo Gangi e vi mostrerò come nascono tutti i nostri prodotti. I tubi sono realizzati con uno speciale acciaio inossidabile, molto molto resistente alla corrosione. Alle mie spalle la linea di produzione automatica, dove i coils di acciaio vengono trasformati in un tubo perfetto, pronto per la verniciatura. Con la supervisione di un operatore specializzato, il coils di acciaio viene dapprima calandrato, quindi saldato, e infine funzionato e bicchierato ad entrambe le estremità. Qualche minuto e avremo il tubo pronto per la verniciatura. Qui ci troviamo di fronte al nostro impianto di verniciatura, anche questo completamente automatizzato. Il tubo viene verniciato esternamente con una speciale vernice nera selettiva studiata ad hoc per aumentare le prestazioni del collettor. I tubi appesi alla catenaria vengono introdotti verso il tunnel di lavaggio, dove dapprima vengono sgrassati, lavati, risciacquati ed infine asciugati passando all'interno del forno, per poi entrare all'interno della cabina di verniciatura, essere verniciati, e quindi infine passare nuovamente all'interno del forno di cottura in maniera tale da polimerizzare la vernice sul tubo. A questo punto i tubi sono pronti per la successiva fase di assemblaggio. La linea di assemblaggio dell'ego, il luogo in cui i collettori prendono forma. I nostri operatori compongono ciascun ego con la massima attenzione. Le calotte vengono assemblate sui tubi e i tubi tra di loro a formare gli accumuli. Vengono testati uno ad uno per verificarne la tenuta idraulica. Poi sono inseriti nei telai isolati e coperti con la lastra trasparente in policarbonato, quindi completati con le valvole in dotazione. L'ego è pronto così ad essere imballato e preparato per la spedizione. Non solo ego, ecco qui la linea di produzione dei nostri collettori sottovuoto X-Ray e X-Ray con System Eclipse. Sul telaio in alluminio dapprima vengono fissati i rislettori parabolici CPC che sfruttano la radiazione solare in modo ottimale. Viene poi inserito il circuito di rame ed i tubi sottovuoto altamente selettivi grazie alla loro particolare colorazione. Anche i nostri collettori sottovuoto vengono collaudati in pressione uno ad uno. Il risultato finale è il nostro X-Ray ad altissime prestazioni pronto per essere imballato e spedito. Dalla produzione al prodotto finito. Ecco il nostro sistema solare a circolazione naturale Ego pronto per essere installato. Ego è un sistema molto semplice da installare e da utilizzare, molto performante d'estate in zone geografiche ad alto irraggiamento. Ego è più leggero del 40% rispetto ai pannelli tradizionali grazie alla combinazione di nuovi materiali. La cornice rimovibile in PVC per alta temperatura disponibile in due colorazioni bianco e rosso tegola. La lastra frontale in Lexan è infrangibile e con trattamento antigiallo. L'accumulo di acqua calda sanitaria Diego è molto resistente alla corrosione grazie all'innovativa lega inox con cui è costruito. Le calotte sono costruite in uno speciale materiale plastico arricchito con fibra di vetro e completamente riciclabile. È l'unico al mondo ad essere disponibile in cinque taglie, ciascuna studiata per soddisfare perfettamente tutte le esigenze. Per il sistema circolazione forzata, oltre alla gamma di collettori sottovuoto, Playon propone un innovativo accumulo solare che abbina la produzione di acqua calda sanitaria a riscaldamento degli ambienti. Ecco quindi UltraFresh 401 che permette l'integrazione solare per la produzione di acqua calda sanitaria a riscaldamento ambienti con il suo volume di più di 400 litri. È perfetto per impianti radianti a bassa temperatura. Lo scambiatore a piastre permette di produrre acqua calda sanitaria per 20 litri al minuto. L'abbinamento con pompe di calore permette di riscaldare direttamente il volume dell'acqua tecnica contenuto nel puffer. UltraFresh ha tra l'altro stazione solare, scambiatore a piastre per la produzione di acqua calda sanitaria e la centralina elettronica già preinstallati e precablati, permettendo la riduzione nei tempi di installazione ed eliminando ogni possibilità d'errore. Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web sul quale troverai tutte le informazioni tecniche e certificati dei nostri prodotti. Rieccoci qua! Spero che questo tour che avete fatto sia stato utile ed interessante. Ringrazio Alessandra, ringrazio Filippo per la collaborazione. All'interno del nostro sito potete trovare tante ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sui nostri contatti. Non ci resta che salutarvi e invitarvi ad una visita in Playon.